Sulla PAC il Consiglio deve assumere un mandato negoziale vero e non solo una rigida difesa della propria posizione. Così Gianni Fava, assessore all'agricoltura della regione Lombardia, fa il punto sui negoziati per la PAC. Secondo Fava ci sono alcuni temi come le agenzie di pagamento, il sistema di allerta e le sanzioni legate al greening che il Parlamento europeo ha messo sul tavolo, indicandole come priorità ma sui quali il Consiglio ha posto un veto considerandole già chiusi arroccandosi sulle proprie posizioni. Da mio punto di vista risulta difficile, sono soddisfatti e poi dove tornare a casa e spiegare agli agricoltori del sistema gazotecnico Lombardo che probabilmente dall'anno prossimo beneficeranno i contribuzioni che uscillano dal 30 al 40 e forse addirittura il 50% in meno rispetto a quelle degli ultimi 7 anni e per i prossimi 7 anni. Dichiarci soddisfatti in queste condizioni è veramente molto complicato. Poi è vero ci saranno compensazioni diverse sui piani di sviluppo rurale, è vero, ma sul piani di sviluppo rurale vorrei ricordare che serve la compartecipazione e noi con i bilanci bloccati come abbiamo dal patto di stabilità faremo molta fatica a compartecipare ai PSR.